Una sala affollata ha accolto la tappa di Salvo Sottile a Senise, in tour per la presentazione del suo ultimo lavoro editoriale Cruel, un thriller edito da Mondadori che sta già scalando le classifiche dei libri più letti. Invitato nella cittadina sinica dalla criminologa Filomena Latronico che ha anche moderato l'incontro, Sottile ha parlato della genesi del suo romanzo e dell'impegno profuso nella sua fatica editoriale. L'autore ha poi raccontato la sua passione per il giallo, nota dai tempi della televisione per la quale ha condotto programmi di successo come quarto grado. Con Cruel, ha spiegato a una sala entusiasta e attenta il racconto del male, della crudeltà, del delitto, trova un luogo diverso da quello in cui si svolge normalmente, quello di una redazione giornalistica, Cruel appunto, un settimanale che si occupa di cronaca nera e nel quale si svolge la vicenda di Mauro, un giornalista che viaggiando nel crimine viaggia anche dentro se stesso. L'incontro sulla presentazione del libro è servito all'autore anche per parlare della sua esperienza giornalistica e di fare il punto sui racconti di cronaca nera che riempiono quotidianamente i mezzi di informazione. L'invadenza nelle vite delle persone è il sintomo di una vera e propria overdose di cronaca nera sul piccolo schermo. Un settimanale di cronaca nera che si chiama appunto Cruel. I protagonisti sono due. Uno di questi è un giornalista, un po' scapestrato, che era il numero uno nella cronaca nera ma ha perso un po' lo smalto di un tempo per causa di una ragazza che è arrivata in redazione e gli ha fatto perdere un po' la testa. Quindi cercherà di risolvere questo mistero ma nello stesso tempo di fare anche un viaggio alla ricerca di se stesso, per un po' ritrovarsi. La cosa curiosa di Cruel è che non c'è soltanto l'ambientazione in una redazione per la prima volta, quindi un dietro le quinte su come si fabbrica un giornale e su come si affrontano le storie di nera, ma c'è la possibilità di immedesimarsi nella storia e di individuare un colpevole possibile tra ogni protagonista, perché ogni protagonista ha un motivo per uccidere. La televisione è entrata nelle case degli italiani e se durante un mondiale ci sono 57 milioni di commissari tecnici e oggi con le storie di cronacanera ci sono 57 milioni di detective, questo è il dato che salta all'occhio. Il problema è che ormai questo tipo di trasmissioni sono tante, ce ne sono alcune fatte bene, altre che fanno della cronacanera una sorta di medicinale che viene sparso a ogni ora del giorno e della notte. Quello può essere dannoso sia per i familiari delle vittime che per le inchieste stesse. Al termine della presentazione, Sottile è stato letteralmente subissato dall'entusiasmo dei presenti. Foto e autografi per tutti. Chissà che la passione per il thriller aiuterà a spegnere lo smartphone e dedicare più tempo alla lettura.